Saranno famosi non è solo il titolo di un film o di un varietà televisivo, è anche il tema del Gran Premio ospitato dall'Ippodromo dei Sauri nei pressi di Castelluccio nel Foggiano, un Gran Premio nazionale legato alle corse ippiche che è giunto alla sua seconda edizione. L'Ippodromo dei Sauri vive di corse ogni settimana per buona parte dell'anno, ma i Cavalli al Trotto di Domenica rappresentano un evento cui sono legate altre iniziative, a partire dal motoraduno che ha richiamato un numero rilevante di partecipanti. Ruote e motori, come dice lo slogan, ma anche una festa in misura di famiglia. Animazione per bambini, baby dance, giochi gonfiabili e poi DJ set, drum queen show, i sorteggi della lotteria legata ai posizionamenti nelle corse e le premiazioni. Oltre ai Cavalli c'è un mondo di intrattenimento, folklore e riti per appassionati e non. La degustazione dei prodotti tipici locali è la ciliegina finale di un menù che fa dell'Ippica un richiamo a misura di entusiasmo e di partecipazione.